Ciao a tutti ragazzi qui è Xderiver e oggi sono qui per presentarvi questo nuovo trailer di Tizia Tsumumushima che finalmente è stato rilasciato per attrairci non più di poche ore fa ma comunque non vi tartengo ancora a lungo questo nuovo trailer spero che vi piacerà perchè è veramente fantastico non ci sono parole per descrivere questa mappa quindi ci sentiamo al prossimo video io vi lascio il trailer scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto il trailer se vi piacerà la mappa è cazzato varie scrivetemi nei commenti lasciate un mi piace iscrivetevi e ci vediamo al prossimo video ciao a tutti ragazzi bene the shadow of an evil a new enemy has a reason here on this island they had no idea of what they would unleash oh yeah monkey time this is how sausage is made make your peace hell's home i am coming for you so i Grazie a tutti.